Bambini al lavoro qui a San Rufo, ci troviamo alla casa comunale di San Rufo e come vedete alle nostre spalle ci sono tanti bambini impegnati a interrare in questi vasi dei bellissimi fiori. E' un'iniziativa collaterale a Balconi Fioritri, iniziativa della Proloco di San Rufo e noi siamo con il presidente Filippo Omar, ma allora è davvero bello vedere questi bambini alle prese con i fiori. E' un modo per sviluppare il senso civico ai bambini, è importante che i bambini nascano con un grande senso civico in modo che si prendono cuneo del proprio paese. Oggi a San Rufo abbiamo deciso di dare la possibilità ai bambini del paese di invasare 100 vasi con circa 300 piante. Ogni bambino poi potrà porre il proprio nome sul vaso che ha realizzato. Successivamente questi vasi verranno distribuiti per il paese e quindi inevitabilmente tenteremo di abbellire esteticamente il paese. Al lavoro c'è anche una botanica, siamo con la signora Maria Formentine di Padula, che ha tenuto anche delle lezioni a questi bambini. Che cosa ha insegnato ai bambini? Gli ho detto semplicemente come funziona una pianta, come funziona nel senso come prende le sostanze nutritive dalla terra, come le trasforma in energia attraverso la fotosintesi e come le riporta un'altra volta nelle radici e produce chiaramente l'ossigeno necessario per noi. Allora Marco che stai facendo? I fiori I fiori? Ma ti piace? Ehi Sì? Ma che fiori sono questi? Pò Oh, gliel'abbiamo detto prima! Come si chiama? Gerani Gerani Allora ecco, come ti chiami tu? Giuseppe Allora Giuseppe, che fiori questi sono? Gerani Alin, che stai facendo con questo vaso? Sto portando della terra E poi con la terra cosa ci fai? La metto nei vasi per far crescere i fiori E poi con la terra cosa ci fai? Grazie!